Benvenuti a Tu per Tu, abbiamo ospite in studio in questa puntata, Dennis Paoli che è consigliere provinciale della Lega Trentino, come sempre nel corso di A Tu per Tu analizziamo gli atti che vengono portati avanti nel Consiglio provinciale, proposte, mozioni, in particolare Paoli nei mesi scorsi si è occupato dei temi del lavoro per alcune persone in particolare. Sì, vi ringrazio dell'invito, molto volentieri, sappiamo benissimo come il governo in Trentino, la maggioranza, la Lega in primis stiano facendo un lavoro molto importante per quanto riguarda la tutela, la sicurezza e insomma la vicinanza a quello che è il mondo della famiglia, il mondo degli anziani, il mondo dei minori e il mondo anche dei disabili. Un punto importante, di recente sono stati accolti in Consiglio provinciale dei documenti proprio legati a agevolare in un qualche modo la vita di persone soggette disabili, un documento importante è quello relativo agli incentivi alle attività economiche, start-up aziende che prevedano insomma il coinvolgimento di soggetti disabili, quindi un coinvolgimento della provincia che cercherà di fare dei progetti pilota sperimentali che possano in qualche modo aiutare la nascita di nuove imprese nei primi due o tre anni e che poi queste imprese che prevedono il lavoro di appunto soggetti diversamente abili possano poi andare e continuare il loro percorso in maniera autonoma. Sappiamo benissimo in questo contesto come le mansioni che hanno ricoperto classicamente i disabili, stiano sparendo voglia all'automazione all'interno delle aziende o comunque anche la delocalizzazione per motivi economici, questo insomma ci fa pensare che su questo bisogna puntare molto insomma. Da questo punto di vista qua è stato anche portato avanti come Gruppo Lega un importante documento in merito al mondo dell'autismo dove si vuole prevedere un punto informativo trentino appunto per il mondo degli autistici e quindi per le famiglie, per i genitori in primis e quindi potenziare quelle che sono le attività di diagnostica riabilitative nei centri dedicati, anche all'interno delle scuole, prevedere l'introduzione, il potenziamento di persone che facciano da tutor, che possano affiancare anche gli insegnanti ordinari e che siano specializzati anche sul mondo dell'autismo in modo tale che possano anche accompagnare, integrare il soggetto nella vita sociale ma anche nella vita lavorativa, quindi questo è un focus importante per noi, per la Lega e per la maggioranza in trentino. Vi siete occupati, lei in particolare appunto il Consiglio Provinciale si è occupato anche di una serie di provvedimenti che riguardano la piana rotaliana che diciamo così è un po' la sua zona di riferimento. Sì, diciamo che chiaramente essendo io di Mezzocorona chiaro che i primi input per quanto riguarda il territorio mi arrivano direttamente dalla piana rotaliana o comunque anche i territori limitovici come la Paganella e la Val di Nonne. Io mi sto concentrando ma insomma sollecitando e chiaramente cercando di fare un lavoro di trasmettere insomma quello che sono le esigenze del territorio alla giunta provinciale che sta chiaramente portando avanti dei importanti percorsi dal punto di vista infrastrutturale, della viabilità e dei servizi in piana rotaliana e anche di sicurezza pedonale. Ecco che quindi per citarne alcuni è stato molto importante e non scontato il fatto di mantenere al servizio della comunità gli uffici del catastro del libro fondiario a Mezzolombardo che manterranno gli stessi servizi a disposizione della popolazione. Altra cosa importante su cui si sta andando ad avviare l'iter è quello della realizzazione della nuova bretella di collegamento tra la rotatoria dell'A22 a San Michele e la rotatoria in prossimità della zona della cacciatora a Mezzocorona, quella importante per svincolare il traffico che proviene anche dalle zone industriali di Mezzocorona e va verso San Michele che tante volte poneva in tilt un po' il ponte proprio di San Michele nelle ore di punta. Altra specificità che stiamo andando a portare avanti è quella sempre per la sicurezza ciclopedonale, quindi il completamento del collegamento della ciclopedonale tra Mezzolombardo e Mezzocorona con la prosecuzione anche della ciclopedonale per arrivare fino alla stazione dei treni a Mezzocorona, quindi dal ponte del Noce di Mezzolombardo passando per la rotatoria della Galletta e arrivando alla stazione di Mezzocorona, quindi anche questo importante per la sicurezza dei pedoni e dei cicli. Infine anche un'altra cosa di molta importanza per quanto riguarda la sicurezza pedonale è anche un ordine del giorno che è stato approvato nell'ultimo bilancio, quello relativo alla messa in sicurezza di località Masette sulla strada provinciale 90 nei pressi di Nave San Rocco nel comune di Terre d'Adige. Anche qui c'è da fare un lavoro importante per la sicurezza dei pedoni, un collegamento pedonale che arrivi da e verso il centro di Nave San Rocco e degli attraversamenti pedonali protetti nonché c'è da sistemare anche le piazzole e le banchine che non sono ancora coperte dove c'è le fermate dello scuolabus e quindi anche la messa in sicurezza di quei bambini, di quei minori che aspettano l'autobus e quindi la sicurezza e la tranquillità delle famiglie che abitano a località Masette. Noi ringraziamo molto Denis Paoli che è consigliere provinciale della Lega Trentino che è stato nostro ospite di questa puntata di A Tu per Tu, arrivederci alla prossima puntata.